Bentornati al Tg7. Ancora inquinamento a fondi con vere e proprie discariche a cielo aperto. Le immagini parlano da sé. Queste le parole del consigliere del Movimento 5 Stelle di fondi, Apio Antonelli, che ancora una volta denuncia il degrado delle zone periferiche del Comune. Al centro della questione, questa volta, è la zona della Fontana della Volpe, imbrattata dai rifiuti di cittadini incivili. Il problema, dichiara Antonelli sui social, ormai è di estrema gravità. Se non si interviene con giuste politiche da subito, tra un po' di anni ci ritroveremo a vivere in una discarica a cielo aperto. Denunciando l'inciviltà di alcuni cittadini, il consigliere del Movimento 5 Stelle di fondi quindi invita l'amministrazione ad intraprendere provvedimenti seri e immediati. E parliamo ancora di inquinamento. Questa volta a lanciare l'allarme è l'Ego Ambiente, che denuncia la presenza, oltre che di numerosi rifiuti, anche di macchie oleose nel canale Pedemontano a Fondi. Gli attivisti del circolo, la ginestra di fondi, a seguito di un sopralluogo conseguente a numerose segnalazioni, hanno constatato l'enorme gravità della situazione, che ha reso necessaria l'immediata richiesta di intervento da parte della Presidente Angela Iannone delle autorità competenti. L'Ego Ambiente ha quindi iscritto al Sindaco Salvatore De Meo, al Consorzio di Bonifica del Sud Pontino e alla Procura della Repubblica di Latina, per garantire una soluzione celere al gravissimo problema. Sarà l'architetto Tiziana Di Fazio, funzionario tecnico del Comune di Monte San Biagio, il nuovo responsabile dei settori demanio urbanistica, lavori pubblici e tecnologico ambientale del Comune di Sperlonga. Lo ha deciso l'Aggiunta Comunale di Sperlonga, presieduta dal Vice Sindaco Francesco Faiola, che ha deliberato con il consenso dell'interessata e del Comune di Monte San Biagio la convenzione tra le due amministrazioni. Lo scopo è quello di sopperire alla grave carenza di personale inorganico che si è verificata con l'automatica sospensione dal lavoro dell'architetto Isidoro Masi, responsabile dell'Area 4, e del geometra Massimo Pacini, responsabile del settore tecnologico ambientale. Una situazione che comporta sotto il profilo economico un risparmio di spesa annuale per il personale e garantisce l'assoluzione delle funzioni fondamentali dei settori strategici del Comune. La convenzione ha una durata di tre mesi ed è tacitamente prorogabile. Si svolgerà lunedì 13 febbraio alle ore 16.30 presso il Martino Club Hotel dell'Assemblea Generale degli Operatori dei Mercati Settimanali di Fondi e di Terracina, alla quale parteciperanno anche i rispettivi sindaci Salvatore De Meo e Nicola Procaccini e gli assessori alle attività produttive Giorgia Salemme e Gianni Percoco. A comunicarlo è l'Associazione Imprese Oggi che con l'Assemblea è intenzionata a porre alle attenzioni delle amministrazioni comunali la necessità di correggere con urgenza alcune passate decisioni che hanno prodotto non poche difficoltà e forti malumori nella categoria. Nel particolare, per quanto riguarda il mercato di fondi, saranno oggetto di discussione in primo luogo il costo del suolo pubblico per operatori e produttori agricoli con tariffe a metro quadro tra le più alte della Regione Lazio ed in assoluto le più alte della provincia di Latina. A seguire i costi dei diritti di istruttoria, che anche in questo caso si registrano come i più alti in assoluto in Italia. L'aggiornamento della graduatoria della spunta con contestuale bando per migliorie ed assegnazione definitiva dei posteggi liberi e i canoni della Fiera di Santo Norato. Parliamo di eventi. Il 10 febbraio ricorre il giorno del ricordo per conservare la memoria delle vittime, delle foibe e del tragico epilogo di quell'orrore, l'esodo che vide 350.000 profughi, Giuliano Dalmatis, triani, obbligati a lasciare le loro terre perché colpevoli di essere italiani. Anche quest'anno a Fondi in Piazza Martiri delle Foibe si svolgerà una cerimonia commemorativa promossa dal Comitato 10 febbraio che avrà luogo venerdì 10 alle ore 11. All'iniziativa a cui aderisce l'amministrazione comunale prenderanno parte il vice sindaco di Fondi, Beniaminio Maschietto, e alcune classi degli istituti scolastici cittadini. Nell'invitare la cittadinanza a partecipare, l'amministrazione comunale riconosce come la tragedia delle foibe, le cavità carsiche nelle quali furono gettati vivi gli uomini dal maresciallo Tito, migliaia di italiani, è ancora oggi una pagina della storia tra le meno note. Fino a pochi anni fa, infatti, pochissimo si sapeva su tale tragedia, e sia sull'esodo dei nostri connazionali di Istria, Fiume e Dalmazia, costretti dalla ferocia politica e dalla polizia etnica a fuggire dai luoghi nativi. E sabato 11 febbraio 2017 ricorre il centenario della nascita di Giuseppe De Santis, regista e sceneggiatore del neorealismo, nato a fondi alla quale rimase sempre legato e dove ambientò due film, Non c'è page tra gli olivi e Giorni d'amore, che ebbero un eco mondiale e furono premiati in festival internazionali. La sua città lo ricorda proprio nell'anniversario della nascita, con una iniziativa organizzata dall'Associazione Giuseppe De Santis e patrocinata dal Comune di Fonti, ente regionale Parco dei Monti Aurunci, sistema bibliotecario Sud Pontino e Banca Popolare di Fonti. La manifestazione aprirà le celebrazioni per il centenario della nascita di De Santis, che si svolgeranno in Italia e all'estero nel corso del 2017. Alle ore 16 presso il cimitero comunale avrà luogo una cerimonia di commemorazione sulla tomba di De Santis. Alle ore 17 e 30 nella Sala Convegni del Castello Caetani si svolgerà un incontro nel corso del quale sarà presentato e distribuito gratuitamente il numero 7 dei quaderni dell'Associazione dal titolo Giuseppe De Santis nel centenario della nascita. Sempre sabato 11 presso la chiesa di Santa Maria Maggiore a Itri, la chiesa di Gaeta celebrerà la venticinquesima giornata mondiale del malato. Alle ore 16 e 30 il rosario, mentre alle ore 17 l'arcivescovo di Gaeta Luigi Ivari presiderà la messa con il sacramento dell'unzione degli infermi. Seguirà il canto dell'Ave Maria alla luce dei flambù. L'evento è organizzato dal servizio diocesano di pastorale alla salute, guidato da Don Luigi Ruggero, cappellano dell'ospedale Dono Svizzero di Formia e da Don Guerino Piccione, assistente ecclesiastico diocesano dell'Unitalsi e parroco di Itri. Il tema della giornata prende spunto dal messaggio di Papa Francesco Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, che si ispira alle parole di Maria nel Vangelo di San Luca. Parteciperanno i volontari e le associazioni, che hanno a cuore la cura dei sofferenti nel corpo e nello spirito, in particolare l'Unitalsi, sottosezione di Gaeta e l'Avo di Formia. Passiamo allo sport. Le ragazze dell'HC Fondi conquistano il derby Pontino. Sabato 4 febbraio, le atlete care al presidente Vincenzo De Santis hanno battuto le cugine della cassa rurale Pontinia, tra le mura di casa sotto gli occhi di un caloroso pubblico che ha fatto da cornice a un match spettacolare e dall'alto livello agonistico che ha generato passione e divertimento. Nell'ultimo turno di andata del Girone D del campionato di seconda divisione femminile, contro ogni pronostico le fondane hanno messo a segno i tre punti imponendosi per 23 a 22 e sottratto alle avversarie giallo-blu la possibilità di agguantare la capolista Veressenze Messina. Le fondane, con la vittoria nel derby, raggiungono in classifica l'Onmic-Salerno e la stessa Pontinia ha soli tre punti dalla vetta, pur restando al quarto posto soltanto per differenza reti. Vi ricordiamo l'appuntamento con Mercoledì Rosso Blu, il programma sportivo ideato dagli ultra bravi ragazzi, condotto da Lorenzo Nallo e prodotto da Canali 7 con ospiti in studio, interviste e immagini esclusive. Tanto calcio e non solo, in onda ogni mercoledì alle ore 21.05 circa, in replica il giovedì alle ore 14.05. Ospiti in studio questa settimana, i calciatori dell'Unicusano Fondi, Emilio Cibelli, rispettivamente allenatore. Questa edizione del TG7 termina qui. Per segnalazioni e suggerimenti potete contattarci alla nostra mail redazionechiocciolatvcanalesette.it o sulla nostra pagina Facebook Canale 7. Potete inoltre continuare a seguirci sul nostro sito internet tvcanalesette.it Grazie per averci seguito e buon proseguimento sulla nostra rete.